1 e 2 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato la legge delega sul fisco. Tra gli obiettivi ci sono in particolare il bisogno di razionalizzare il sistema e alleggerire il carico fiscale sul tavolo. C'era anche la riforma del catasto, una questione che ha spinto Salvini a non partecipare al Consiglio dei Ministri. Vediamo i dettagli. Il governo approva la delega fiscale, primo passo verso una riforma complessiva attesa da anni, ma lo fa senza la Lega, che prima abbandona la cabina di regia dove era stato inviato il ministro del Turismo Garavaglia e poi diserta il Consiglio dei Ministri. Un vero e proprio strappo, applaudito da Fratelli d'Italia e giudicato invece molto grave da 5 Stelle e PD. È insopportabile che un partito faccia dentro e fuori dal governo. Sarà il Premier a decidere se avviare una verifica di maggioranza, l'avvertimento che Enrico Letta rivolge a Salvini, che nel pomeriggio ha aperto il fuoco. Non firmo una delega in bianco nel testo, che abbiamo avuto mezz'ora prima del CDM, ravvisiamo possibili nuove tasse e su questo non saremo mai d'accordo. Le parole del leader del Carroccio, critico, soprattutto con la riforma del catasto. Il Premier non è sembrato scomporsi, attende spiegazioni dal leader del Carroccio in conferenza stampa puntualizzato che tutti avevano avuto informazioni sufficienti a valutare il contenuto della delega. Secca la smentità sull'aumento della tassazione. Il contribuente non si accorgerà di nulla perché nessuno pagherà di più o di meno. Il governo, ha spiegato il Premier, si impegna ad accatastare tutto ciò che oggi non è accatastato e adeguare le rendite a quelle di mercato. Il tutto non arriverà a compimento prima di cinque anni. E il Ministro dell'Economia Franco ha chiarito che la delega prevede una razionalizzazione del sistema delle imposte e una riduzione del carico fiscale. Tra le altre misure anche il riordino di deduzioni e detrazioni, una razionalizzazione dell'IVA, il superamento progressivo dell'IRAP e una semplificazione dell'IRES. Il giorno dopo il voto è quello delle analisi di quanto accaduto. Da una parte c'è chi esulta, dall'altra c'è chi fa autocritica. Tutti cercano di stringere le alleanze e soprattutto si insegue quella parte di elettorato che ieri si è astenuta. Se la metà dei cittadini sceglie di non votare, non è certo colpa loro, è solo colpa nostra, dei nostri errori, litigi e ritardi che mi serva e ci serva da lezione. Da Matteo Salvini il commento del risultato amministrativo non è proprio un'autocritica. Per ciò che riguarda Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni prima lancia un appello verso gli alleati per un forte impegno comune ai ballottaggi, poi chiede di rafforzare l'alleanza. Sull'inchiesta di Milano, seguita da un servizio giornalistico di Fanpage, l'europarlamentare fidanzata ieri sera indagato per riciclaggi e finanziamenti illecito, Meloni dice che il caso non ha inciso sui risultati elettorali. Anche Forza Italia preme per il rilancio dell'alleanza, ma con un ancoraggio al PPE. Nel centro-sinistra, soddisfazione per il risultato del voto di domenica e lunedì e il segretario del PD preme per ciò che definisce un nuovo ulivo con dentro pentastellati e calenda. Dai 5 Stelle, dopo la delusione per il risultato delle urne è evidente, anche Giuseppe Conte conferma l'obiettivo di un'alleanza strutturale con il PD in vista del voto politico del 2023. Una vasta alleanza la vuole anche Matteo Renzi, ma senza i 5 Stelle. Dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, Mario Draghi è andato a Bernò in Slovenia per un vertice tra i paesi balcanici e l'Unione Europea su energia e difesa. Il vertice comincerà domani, ma già questa sera gli argomenti a tavola sono stati molto importanti. si è parlato della difesa comune europea, a proposito argomento che è emerso dopo il caotico ritiro dall'Afghanistan. Mario Draghi ha detto che nonostante la convinta adesione alla Nato è necessaria una seria riflessione sulle relazioni internazionali e ha chiesto alla Commissione di verare un documento sulla difesa comune europea anche in vista del vertice di marzo sulla difesa. Il vertice si terrà sotto presidenza francese, ma il responsabile della politica estera dell'Unione Borrella ha fatto sapere che già a novembre ci sarà un documento su cui cominciare a lavorare. Il comitato tecnico-scientifico ha dato parere positivo alla riapertura delle discoteche, l'unico settore che era ancora chiuso. Secondo il CTS le attività delle sale da ballo possono essere consentite in zona bianca, garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto. Per accedere, obbligatorio il Green Pass e l'utilizzo della mascherina che potrà essere tolta durante il ballo. Ma in attesa della decisione del Governo, il sindacato dei gestori delle sale da ballo ha già bocciato i parametri del CTS per la riapertura del settore. E adesso la notizia che durante la giornata ci ha riempito nuovamente d'orgoglio per essere italiani, questa volta per una materia che per molti è ostica, ma che per l'uomo che oggi ha vinto il Nobel per la fisica sicuramente non lo è. è arrivato appunto un nuovo Nobel per la fisica dopo 37 anni dalla vittoria di Carlo Rubbia a Giorgio Parisi, scienziato e docente universitario alla Sapienza di Roma. Llamiamo il nostro premio Nobel, Giorgio Parisi. Era un po' nell'aria, ma Giorgio Parisi, 73 anni, vicepresidente dell'Accademia dei Vincei e professore alla Sapienza di Roma, dice che non se l'aspettava a questo premio Nobel per la fisica vinto in condivisione con due climatologi. Uno scienziato del caos, studioso dei sistemi complessi, dal bosone di Higgs e dalle particelle ai neuroni del cervello, reti neurali e intelligenza artificiale, fino al comportamento dei singoli uccelli all'interno degli stormi invirata e alla struttura del vetro, si occupa anche di clima e ha seguito le evoluzioni della pandemia. Ha chiesto alla politica maggiori risorse per la ricerca scientifica Draghi, l'ha già invitato a Palazzo Chigi. Parisi, come scienziato, si è sempre impegnato per imbrigliare il disordine dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, memorabile. Il suo lavoro sugli storni a Roma, ma è stato un'apripista per gli studi sulla realizzazione delle reti neurali e l'intelligenza artificiale. E invece è un brutto momento per Mark Zuckerberg, il guru di Facebook, Whatsapp, Instagram, dopo quello che è accaduto ieri, il crash a livello globale per più di sei ore, che ha visto andare in fumo diversi miliardi di dollari. Poi c'è la testimonianza al congresso negli Stati Uniti di una sua ex-manager, parliamo di Francis Hogan, che dopo aver fornito ricca documentazione, ha accusato i social di Zuckerberg di danneggiare gravemente gli adolescenti, seminando divisioni e indebolendo anche la democrazia. In particolare la ex-manager ha attaccato Instagram Kids, sostenendo che favorisca appunto il bullismo tra gli adolescenti. La società, tramite poi la vicepresidente intervistata dalla CNN, ha raspinto le accuse, comprese quelle di aver favorito, diffondendo messaggi di odio, l'assalto al congresso lo scorso 6 gennaio. Domani l'azionale campione d'Europa torna in campo contro la Spagna. L'ultima volta che si erano incontrati era appunto la semifinale degli europei. Questa volta si gioca per la Nations League. Roberto Mancini alza la sticella dell'ambizione, l'europeo lo ha già vinto e ora naviga verso il mondiale, che si giocherà tra poco più di un anno in Qatar, ma prima c'è da far rotta verso la Nations League. Vogliamo vincere la partita di domani per andare in finale, poi insomma siamo a 37, ma ci piacerebbe andare avanti ancora molto. Nelle sue 42 partite Roberto Mancini è diventato il Citeazzurro con la miglior media punti e una streccia di imbattibilità salita a 37 gare. Domani sera nella semifinale di Nations League contro la Spagna giocherà in difesa di questi record storici e naturalmente per conquistare la finale contro la vincente tra Belgio e Francia. L'ultima volta che Italia e Spagna si sono affrontate, fu tre mesi fa a semifinale europea vinta dagli Azzurri dopo tanta sofferenza. Le ultime dal campo dicono che il grande dubbio di Mancini riguarda l'attacco assente immobile e Belotti potrebbe toccare a Raspadori, ma nelle ultime ore sta prendendo quota la soluzione in signe falso 9 con l'impiego a sinistra di Pellegrini, uno dei più in forma del campionato. Si gioca a San Siro davanti a 37 mila spettatori, il massimo consentito. Nell'1.11 noi ci fermiamo qui, come sempre domattina alle 7. Torna l'informazione, arrivederci, grazie e buonanotte.